ricordi la tua vita quella prima di lui ricordi la libertà quella prima di lui ricordi la spensieratezza e l'amicizia l'amore la comprensione ricordi di essere stata viva i segni della violenza psicologica si vedono abbi rispetto per te stessa e si dà esempio per le altre donne denuncia il tuo oppressore riprenditi la tua vita io lotto è l'iniziativa promossa dall'assessorato alle pari opportunità del comune di napoli e finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza nata con l'intento di sensibilizzare le donne vittime di maltrattamenti a denunciare i loro oppressori i centri di ascolto possono darti un aiuto concreto anche solo con un consiglio fatti sentire chiama il 15 22 oppure scrivici in chat